Musica, gag divertenti, ospiti d'onore, satira politica, gli elementi dello show ci sono tutti e in più c'è il carnevale, non quello dei corsi mascherati che da sempre attirano telecamere e tv, ma tutto il resto, tutto ciò che è fuori corso. Adi e Jack, alias Andrea Montaresi e Giacomo Luccarini tornano sul piccolo schermo con fuori corso show, la nuova edizione del programma che ogni anno racconta tutti gli eventi collaterali del carnevale di Viareggio, ma l'arrivo del digitale non poteva passare inosservato e allora grazie anche alla divertente e divertita regia di Giorgia Rupucci e alla scenografia in studio, fuori corso rende omaggio al vecchio sistema analogico ormai in pensione. Per il resto, ospiti assolutamente fuori corso e divertenti battute, all'indirizzo un po' di tutti, a partire ovviamente dai nostri politici. Ad arricchire il programma la comicità di Sala del Vaso e la sigla originale dei cammelli giamaicani, scritta appositamente per il format da questo gruppo di giovani musicisti, davvero pronti al grande salto. Un vero e proprio show, tentativo raro sulle tv locali, unico dalle nostre parti, in onda su Rete Versiglia il giovedì alle 22.25 e a mezzanotte 5 e poi il venerdì alle 11.10, alle 16.10 e alle 18.45. Un vero e proprio show, tentativo raro sulle parti, in onda su Rete Versiglia il giovedì alle 21.50 e alle 18.45. Un vero e proprio show, tentativo raro su Rete Versiglia il giovedì alle 18.45.